I militanti hanno assolutamente capito quali sono i termini del confronto. Io dico che oggi bisogna girare pagina, pancia a terra e lavorare, perché la gente da noi vuole vedere problemi risolti, vuole sentire parlare di lavoro, di sanità, di sociale, di economia e non di baghe di partito. Lo strappo tra la Lega e Flavio Tosi si è appena consumato e Luca Zaia ha già voglia di voltare pagina. Ho provato mediazioni di ogni tipo, aveva scritto in una nota ieri sera Matteo Salvini, ma purtroppo, ricevendo solo dei no, sono costretto a prendere atto delle decisioni di Tosi e quindi della sua decadenza da militante e da segretario della Liga Veneta Lega Nord. Io sono impegnato nel governo della regione, però voglio dire che il tema della decadenza di Tosi non è il tema dei Lombardi e non Lombardi, viene posta una questione rispetto a una scelta. Scegli se vuoi tenerti la fondazione e restare in Lega, scelto la fondazione. Dal canto suo il sindaco di Verona deve ancora decidere cosa fare. Adesso, rispetto a quello che farò in futuro, ci ragiono perché è un momento dove bisogna arrivare a mente fredda a prendere delle decisioni. Adesso a mente fredda non ci sono perché appunto la botta è troppo recente e quindi ci penso. Ma le decisioni di Flavio Tosi a Palazzo Balbi godono di un interesse molto relativo. No, guardi, i sondaggi ci danno assolutamente in vantaggio, però è anche vera una cosa che il mio terreno migliore è quello con difficoltà, quindi corro per i campi e io sullo sterato rendo meglio. La certezza in questo momento è una certezza che noi siamo pronti a presentare innanzitutto la campagna della Lega, che è il mio partito. Dopodiché vedremo chi si aggregerà sul nostro progetto e troverà elementi comuni per condividere questo percorso.